Nelle settimane di grande caldo appena trascorse, gli agricoltori cremonesi hanno risentito della carenza idrica dovuta al mancato rilascio dagli invasi alpini da parte dei gestori idroelettrici. Sino a settimana scorsa la situazione era abbastanza critica. Eravamo molto amareggiati e contrariati da quello che era la gestione dei bacini idroelettrici alpini, che sono quelli che sostanzialmente drenano e trattengono quello che è lo scioglimento nevoso, nonché le piogge di alta montagna. Sino a settimana scorsa i volumi invasati dai bacini alpini era notevole, era superiore al 70% di quello che era il volume nominale, mentre noi rilasciavamo, distribuivamo all'incirca il 30%. Portate invasate che sono sempre andate ad aumentare durante il periodo estivo, e ciò significa solo una cosa, che in realtà gli idroelettrici alpini quest'estate hanno sempre trattenuto più acqua di quella che rilasciavano. Ora la situazione è tornata sotto controllo, ma il consorzio di bonifica Dugali-Naviglio-Adasserio lancia un appello per una diversa gestione da parte dei concessionari degli invasi. Chi gestisce i bacini idroelettrici sono i grandi gestori, ovvero A2A, Enel e Edison. Chi fa la voce maggiore per quello che riguarda la Valtellina è A2A. Sono bacini che sono evidentemente dighe, sbarramenti delle valli alpine, che sono realizzate su concessione dello Stato e che devono sottostare a determinate regolamentazioni. Già nel 1976 ci fu una grande siccità che colpì la nostra zona. I cremonesi fecero causa all'allora EM, Falch ed Enel. Dopo 20 anni, nel 1996, i cremonesi vinsero contro questi gestori. Sulla base di principio che gli utenti erigui sono venuti prima nell'uso delle acque, rispetto a quelli che sono altri usi come quell'idroelettrico. Questo è un principio che noi abbiamo sempre cercato di ribadire in questi anni. La politica a tratti ci ha seguito, devo dire che quest'anno l'assessore Sertori degli sforzi ne ha sicuramente fatti in tal senso, però crediamo che sinché non venga presa in mano la materia e disciplinata correttamente quelli che sono questi usi, queste gestioni, che siano compatibili con quelli che sono anche le esigenze a rigue, che sono prioritarie, evidentemente deve essere messo a mano perché le situazioni e il cambiamento climatico che ormai viviamo da qualche anno comunque ci portano ad una minore disponibilità di acqua.